Ancora una volta gli agricoltori siciliani hanno ragione, gli agricoltori e tutti i cittadini che si oppongono e protestano per la terrificante gestione delle acque nella regione siciliana. La diga Trinità di Castelvetrano è gestita in maniera imbarazzante, ma non soltanto quella, tutto il sistema delle acque irrigue è stato malgestito da Musumeci che ha perso l'opportunità di avere milioni di euro per sistemarlo e continua nella pessima gestione il governo Schifani. Sono con voi come sempre e fisicamente ci sarà anche un mio collaboratore per dire basta a questo spreco, si calcolano 7-8 milioni di metri cubi di acqua, cioè 7-8 miliardi di litri di acqua che vengono sprecati e purtroppo, perché poi abbiamo i periodi di siccità, quindi una gestione corretta dei bacini, un investimento economico serio e soldi ben spesi sulle dighe e sui bacini permetterebbe di avere l'acqua sempre, di non avere problemi di siccità, ma siccome la gestiamo malissimo, la sprechiamo, il risultato è un'ennesima beffa per gli agricoltori e poi per tutti i cittadini, perché poi questo significa che i prodotti non si trovano o costano di più e che talvolta non esse acqua nemmeno dai rubinetti delle nostre case. Il Trapanese merita di meglio, la Sicilia merita di meglio, pensateci.